Affidati i primi contratti per le attività tecniche per il tunnel di base del Moncenisio, del valore complessivo di 800 mila euro, lo annuncia TELT, la società che deve realizzare e gestire la Torino-Lione ferroviaria. Alla società svizzera Pini Swiss Engineering è stata assegnata per 600 mila euro la direzione lavori delle micchie di interscambio alla Maddalena. Per 200 mila euro il raggruppamento torinese Industrial Engineering e GA Engineering si è giudicato il coordinamento della sicurezza sul lavoro.